Crpa è impegnato in particolare nella valorizzazione delle biomasse, soprattutto di scarto, del settore agroindustriale, in particolare per la produzione di biogas e biometano da questi scarti attraverso il protesto di digestione anaerobica. Il Crpa, nell'ambito del Tecnopolo, svilupperà un laboratorio specifico sulla digestione anaerobica per la messa a punto dei processi e la valorizzazione di questi scarti organici. L'importanza del Tecnopolo e della rete di alta tecnologia in questo settore è sicuramente molto elevata perché le biomasse rappresentano circa il 50% del potenziale di sviluppo delle energie rinnovabili nel nostro Paese e quindi il poter valorizzare queste risorse e ottimizzare i processi di conversione energetica e di sostenibilità ambientale legato ad esso è sicuramente molto importante. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!